Amici, amici di Sport Italia, ben ritrovati, ben ritrovati, siamo qui in trasmissione per parlare del calciomercato dell'Inter che finalmente si sblocca e le trattative possono prendere adesso, possono prendere piede perché il fair play finanziario viene risolto, viene risolto, va in bilancio la squadra neroazzurra e quindi abbiamo con noi qui Alfredo Pedullà, molti nomi accostati all'Inter nel corso degli anni finalmente prendono forma e piede. Partiamo subito con il nome di Kolarov, Kolarov all'Inter, accostato all'Inter da 352 stagioni e finalmente messo ai margini del Manchester City adesso potrà finalmente approdare, approdare in neroazzurro con la fine del fair play finanziario, Kolarov che adesso ha anche 40 anni di esperienza sulle spalle potrà finalmente occupare la fascia sinistra dell'Inter, si appara di un'operazione di 42 milioni di euro circa, quindi finalmente si sblocca questa trattativa per Kolarov. L'altro nome che ci circola, che è circolato per tanti anni e che adesso può prendere veramente forma è quello di Ezechiel Lavezzi, Lavezzi che adesso percepisce 42 miliardi di euro in Cina, verrà all'Inter, si adeguerà lo stipendio, ne prenderà solo 11 miliardi però ha detto che sarà felicissimo, felicissimo appunto di poter giocare nella squadra neroazzurra avendo appena compiuto i 45 anni. L'Isteiner, altro nome, il nome caldissimo che sta circolando nel mercato dell'Inter da più di una stagione, finalmente potrà approdare sulla fascia destra della squadra della Madonnina di Milano, dopo essere stato messo ai margini della Juventus, L'Isteiner può approdare all'Inter con la sua veneranda età di 38 anni e l'operazione si aggira intorno ai 55 milioni di euro. Poi Crescito, Crescito altro nome forte sull'Inter perché c'è sempre stata da tanto tempo, Crescito diciamo che altro terzino sinistro quindi andrà a fare concomitanza, andrà a giocarsi il posto con Kolarov, operazione da 25 milioni di euro, Crescito con 42 anni di età finalmente potrà essere un giocatore dell'Inter. Per la mediana Luis Gustavo, Luis Gustavo se ne parla ormai da 42 anni e finalmente potrà essere sulla mediana dell'Inter, ormai anche lui con i suoi 38 anni di età, la sua esperienza nel campionato tedesco nel Wolfsburg farà comodissimo a Spalletti, giocatore espressamente richiesto da lui. L'Inter lo stava seguendo ormai da 25 anni e finalmente può approdare in neroazzurro, le cifre sono intorno ai 68 milioni di euro circa. Altro nome che chiudiamo finalmente, che l'Inter seguì da tanto tempo, non so neanche più dove militi perché sinceramente con tutte le conoscenze che ho mi sembra anche strano però non so neanche più dove giochi, Paulinho che era stato richiesto dall'Inter 47 stagioni fa, adesso finalmente può prodare sempre sulla mediana dell'Inter per andare a comporre un duo tutto brasiliano con Luis Gustavo. L'operazione si aggira intorno ai 67 milioni e mezzo di euro però ci si può incontrare a 65, Paulinho che compirà domani i 41 anni di età. Direi che è tutto, è tutto, non mi chiedono, sono questi qua, sono sempre stati a cosa dell'Inter che adesso con la fine del pre-finanziario finalmente possiamo vederli in neroazzurro. Benissimo Alfredo, ringraziamo Alfredo Pedulla e seguiteci sempre ragazzi su Sport Italia, iscrivetevi anche all'angolo dell'Interista su Youtube e seguitelo su Facebook. Grazie a tutti.